Grande fratello, Avier Martinez riceve un messaggio dai fan. La reazione di Shaila Gatta non passa inosservata. Da quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto ritorno al Grande Fratello le dinamiche nella casa sono cambiate e diversi geffini si sono apertamente schierati contro la coppia. Il più deluso da Shaila è stato sicuramente Avier Martinez, che si è sentito preso in giro dall'ex concorrente di Amici. L'insofferenza verso l'ex velina e il modello milanese è stata espressa anche dai fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5. In queste ore, sono arrivati i nuovi messaggi per i geffini da parte del pubblico e uno rivolto a Avier ha scatenato una forte reazione in Shaila Gatta. GF, Avier riceve un messaggio dai fan, vola alto, l'Italia sa. Dopo un lungo tira e molla, Avier credeva di aver conquistato il cuore di Shaila e aveva trascorso con lei una settimana di effusioni e confidenze sotto le lenzuola nel cuore della notte. Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, la geffina, durante la penultima puntata andata in onda su Canale 5, ha dichiarato di non avere per il pallavolista alcun tipo di sentimento e che non se la sentiva di aspettarlo fuori da reality nel caso fosse uscita. Dopo una finta eliminazione, dietro cui si celava per Shaila e Lorenzo un gemellaggio al gran hermano, all'insaputa degli altri inquilini, la coppia ha fatto ritorno al GF e Avier ha assistito sbigottito al cambio di scenario che gli si è presentato. Non solo Shaila aveva deciso di chiudere con lui, ma in quella settimana al gran hermano si era avvicinata a Lorenzo e ora i due erano ufficialmente una coppia. Nonostante la forte delusione, Avier in diretta ha mantenuto il suo sangue freddo e ha dichiarato che da questo momento per lui Shaila non esisteva più, se non come inquilina della casa. Di fronte al suo comportamento così corretto, i fan hanno preso le difese di Avier e hanno deciso di mostrargli apertamente il loro sostegno inviandogli un aereo con tanto di messaggio indirizzato soltanto a lui, in passato, infatti, non erano mancati gli aerei per gli Shailenzo o per la coppia Havi, Shaila, ma questa volta la dedica e l'affetto dei fan sono stati tutti per il pallavolista. Nel cielo azzurro sopra la casa è volato così un breve, ma significativo messaggio, che ha scatenato non poche reazioni, vola alto, Havi. L'Italia sa.gf, Shaila in lacrime dopo il messaggio dei fan Avier.Al passaggio dell'aereo con il messaggio dedicato a Avier hanno assistito diversi geffini, tra cui Shaila Gatta. L'ex velina non è riuscita a trattenere una reazione piuttosto emotiva di fronte alla frase scelta dai followers del pallavolista ed è scopiata a piangere. Non è la prima volta che Shaila ha una simile reazione, dal suo ritorno, infatti, la geffina ha ammesso di avvertire molto il distacco dagli altri inquilini e che non comprende il perché di tutto quest'odio nei suoi confronti, nel video ripreso dalle telecamere della casa, si vede l'ex velina da sola seduta in giardino mentre si dispera e si lamenta, senza però pronunciare alcuna parola. Shaila ha anche portato le mani al volto e ha continuato a piangere tenendole premute sul viso, a detta di molti, perché in realtà starebbe solo fingendo. Un'ipotesi che non sarebbe da escludere, visto che solo nella giornata di ieri aveva definito Avier un diavolo, affermando di essere contenta che tra loro non avesse funzionato, perché il geffino non le ispirava fiducia.